Oggi giovedì 25 luglio 2019 nella selvaggia foresta di Colinfra, l'altopiano di Folgaria per funghi ho trovato un bel po' di figli. E questo è il terzo porcino Boletut eduris e sono i primi nelle Colinfra, l'altopiano di Folgaria, circa 1.400 metri di latitudine. Adesso lo raccogliamo. Eccolo qua. Ed eccolo che bello sodo anche questo. Con queste immagini vediamo la fine del video. Topiano di Folgaria, porcini Boletut e seduli.